Salve a tutti, benvenuti o bentornati su Pausa Caffè, un saluto a tutti da Max, partiamo con la news, ma prima volevo semplicemente ricordarvi che se siete interessati a questi argomenti potrete iscrivervi al canale, attivare la campanella, attivare quindi tutte le notifiche o semplicemente commentare e lasciare un mi piace o condividere con i vostri amici. Sorella d'Albania al fratello d'Italia. Grazie Giorgia, è stato un onore. È il messaggio all'insegna di una forte amicizia che compare sotto l'immagine postata su Instagram dal primo ministro albanese Edirama. Nella foto, scattata a Valona, si vede la premier italiana con il compagno Andrea Giambruno e il ministro cognato Francesco Lollobrigida insieme a Rama in un clima vacanziero. A riprova dell'ottimo rapporto personale, al di là delle idee politiche diverse, che regna tra i due leader di governo di Italia e Albania. Meloni, in vacanza a Ceglie Messapica, a cavallo di Ferragosto, si è recata in visita privata sull'altra sponda dell'Adriatico per alcuni giorni. La presidente del Consiglio è tornata in Puglia alla masseria beneficio a Ceglie Messapica. E qui dovrebbe fermarsi ancora per qualche giorno prima del rientro a Roma. La Puglia è una regione straordinaria. Una perla italiana nella quale cultura e storia si fondono alle bellezze della natura, tra olivi secolari e spiagge mozzafiato. Per non parlare delle eccellenze enogastronomiche che raccontano una tradizione culinaria a cui non si può che cedere, con buona pace della dieta. È un passaggio della dichiarazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Nuovo Quotidiano di Puglia, secondo quanto riportato sul sito. Anche quest'anno, aggiunge la Premier, ho scelto di passare qui, con la mia famiglia, qualche giorno di agosto per ricaricare le energie in vista di un autunno che sarà molto impegnativo e importante per l'Italia. Ma tornerò presto. È infatti proprio la Puglia la sede scelta dal governo per il G7 2024. Inizia, il rischio, ci sono molto più piccola, ci sono più piccola, ci sono più cose, ma spiegiate la prima, ci sono più piccola, ci sono tutti e Il rischio, ci sono veramente più piccolata e il rischio, ci sono più piccolo. Grazie a tutti.